Si è verificato per coincidenza. Co-co-in-ci-den-za. Significa coincidenza. Coincidenza, non sai che vuol dire? No, fammi un esempio di coincidenza. Coincidenza è, per esempio, mio padre e mia madre si sono sposati lo stesso giorno. Quella è una coincidenza. La stessa chiesa, una coincidenza. Lo stesso prete, tutto lo stesso. Questo è un cazzo di pluricoincidenza. Ti viene spontaneo di dire che coincidenza. E quel cane là, che coincidenza, lo stesso cane di primo, con un occhio solo. E vediamo. Ma guarda, è vero. E' tremendo.